Inizia a terra nel corpo a corpo con Scogna e Miglio, non c'è nulla, falla per Nicolás, 48 e 30, da un momento all'altro arriverà il fischio finale e arriva adesso, fischia la fine, l'arbitro alla penna di Roma, vince Cersei Cosmi che poi sfoga così tutta la sua rabbia nei confronti dei tifosi che dà la tribuna dello stadio picco, evidentemente lo hanno in qualche modo insultato è la risposta di Nervi, di Cersei Cosmi e questa, il Trapani porta a casa la vittoria, 1-0 decide Coronado adesso va anche a parlare con Catellani, Cosmi gli fa vedere la sua camicia, una camicia che porta i segni della battaglia adesso va a parlare anche con Scitum, Cosmi molto molto tirato, non ce l'ha con i giocatori, io credo che ce l'abbia con qualcuno in tribuna che gli ha fatto passare un secondo tempo, direi assolutamente non condivisibile l'atteggiamento di chi se le prese con Cosmi che sta facendo il suo lavoro davanti alla panchina